Grazie Presidente, io ho le scuola di un documento che in un certo senso recepisce anche le sollecitazioni infatti dall'opposizione che ci sollecitava appunto a contribuire le addicite, diciamo, delle linee programmatiche comunicate dal sindaco e che andava appunto nelle considerazioni fatte dal sindaco in quale definiva la propria linea, un file aperto e quindi, come dice, con la possibilità di essere amministrativo. Ecco il documento che consiglio alla Presidenza. Un file aperto. Allora, consiglio, la semplicemente recepizione del consiglio, io diciamo, è tutto prevenzino. Io, da l'opinicina, da un attimo impegnato e non mi interessa vista, io un attimo mi interessa via, la sua esenziale per questo problema. Un attimo c'è. E' un attimo c'è. E' un attimo c'è. Così potrebbe avere un'opportunità di ricettare il solito lavoro. E' un attimo c'è. E' un attimo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.